Entro la metà di luglio partiranno i centri estivi del comune di Teramo. A chi sono rivolti? Sì, sono rivolti ai ragazzi dai 6, ai bambini ai 6 e ai 14 anni. Quest'anno, proprio a causa dell'emergenza Covid, questa fascia d'età, ma tutti i bambini, anche quelli più piccoli, e ci ha pensato l'assessore Core, non hanno potuto completare la socialità, io dico, perché la scuola è stata chiusa e di conseguenza sono stati costretti a rimanere a casa senza avere comunque un rapporto con gli altri bambini. Il Dipartimento della Famiglia ha erogato a tutti i comuni italiani che mi hanno fatto richieste, e quindi anche al comune di Teramo, dei fondi proprio per organizzare dei centri estivi. Quanti bambini potete accogliere? Allora, i bambini che possiamo accogliere, in realtà non abbiamo previsto un numero di bambini, proprio perché cerchiamo di dare la possibilità a tutti i ragazzi, a tutti i bambini ai 6 e 14 anni. Naturalmente questa è una forma per aiutare soprattutto anche le famiglie che durante l'emergenza Covid non hanno potuto lavorare perché messe in ferie forzate o perché hanno dovuto chiudere temporaneamente la loro attività, e di conseguenza in questo periodo estivo sono costretta a rimanere a Teramo e non poter fare delle vacanze. E come si svolgeranno questi centri estivi? Allora, come comune di Teramo, noi non abbiamo proprio una tradizione di centri estivi in città. Come sappiamo tutti quanti abbiamo sempre organizzato delle bellissime colonie al mare o in montagna, mentre quest'anno abbiamo pensato di fare questo grande contenitore, di far partecipare tutte le associazioni che storicamente organizzano dei campus, dei centri estivi, organizzazioni no profit, quindi associazioni di volontariato, associazioni culturali, proprio per fare in modo che tantissimi ragazzi, tantissimi bambini, tantissime bambine possano partecipare al centro estivo. Quindi nei prossimi giorni il comune di Teramo pubblicherà l'avviso con cui richiederà le associazioni di partecipare e darà un rimborso indiretto alle famiglie sulla retta. In che modo? Abbiamo pensato che un centro estivo in città possa costare tra i 15 euro laddove non è previsto il pranzo e 22 euro laddove invece è previsto il pranzo. Di conseguenza noi daremo un rimborso fino al 50% secondo questi due criteri economici sulla retta che poi il genitore andrà a pagare. Quindi anche quelle associazioni che fanno pagare delle rette più alte decurteranno una somma pari a quello standard economico che il comune darà. Grazie. 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 Grazie.